Mi ero quasi convinto che il fenomeno degli uomini ombra fosse tuttavia qualcosa di piuttosto recente, qualcosa etichettata come leggenda metropolitana, gli shadow people, invisibili e impalpabili entità di un mondo accanto, o forse qualcosa di molto simile agli spiriti e altre apparizioni che da sempre tormentano il sonno degli uomini. Nonostante abbia io stesso visto con i miei occhi una di queste forme spettrali, diverse volte nell'arco della mia vita, ho sempre creduto che il fenomeno potesse essere relegato se non al mondo spiritico, a quello psicologico, a qualcosa di molto più vicino alla rappresentazione archetipica junghiana, ma forse in verità c'è molto altro. C'è qualcosa che proviene dal profondo della notte e indubbiamente risulta invisibile ai nostri occhi, alieno, se non in rari casi, ai nostri sensi. Quelle che sto per raccontarvi sono vere testimonianze, ma non solo. Tra queste, giunta in modo del tutto inaspettato, persino una storia tutta italiana che ci viene dall'ormai lontano 1954. Chi invece del podcast sta guardando il video su YouTube potrà anche vederlo con i suoi occhi. Io sono Massimo Maid e vi porterò con me nel cuore delle inquietudini umane, tra leggende e mistero, tra indagini e libri maledetti, quando inizia la notte. Le ombre iniziano a muoversi tra noi già nel lontano 1937 con un giovane Orson Welles che nel radiodramma The Shadow presta la voce proprio a lui, l'ombra. Nel 1953 le ombre compaiono anche nel radiodramma Creators in the Shadow, conosciuto anche come Shadow of People e mandato in onda dal Chicago Hall of Fantasy. Ma queste sono solo storie, responsabili forse di aver creato un vero e proprio archetipo nell'immaginario americano, ovvero quello dell'ombra con il cappello, detta anche Hatman e considerata, da chi dice di averla vista, l'ombra più inquietante. Già, ma queste sono solo storie, mentre proprio qui nel mondo reale sembra che qualcosa si sia reso manifesto anche se relegato al mondo dell'invisibile. Sembra che queste cose continuino a rendersi visibili agli occhi di un numero sempre più elevato di testimoni, cose di non facile definizione, poiché parte di un mondo impalpabile, indefinito, oscuro, proprio come le ombre. 1949, Saint-Cosé, California. Charles ha appena 13 anni quando le ombre invadono la sua vita. Si trova seduto sul letto, al buio, e accanto a lui il fratello. Stanno parlando come ogni sera prima di coricarsi a dormire, quando improvvisamente qualcosa compare davanti alla finestra della stanza che si trova al piano terra. Charles vede chiaramente l'ombra di un uomo alto con il cappello a tesa larga calato sulla testa. Non gli è possibile vedere i tratti del volto perché l'ombra è più scura della notte. I due ragazzini rimangono letteralmente paralizzati, increduli a causa di quanto stanno vedendo. Malgrado la finestra sia chiusa, le mani dell'ombra penetrano all'interno e sollevano senza alcun rumore il vetro a ghigliottina. Rapidamente l'ombra si introduce nella stanza e scompare in un angolo buio, mentre Charles e il fratello urlano per richiamare la madre, che una volta giunta in stanza non trova nulla. Da allora Charles vede le ombre di tanto in tanto far capolino nella sua vita. Questo è quanto afferma e che viene riportato nel libro di Jason Hoffwood, Darkness Walks. 1900, Castle Comby, Inghilterra. Ne ho già parlato in un precedente video podcast del Teatro delle Ombre che vi rimando a vedere. In questo caso le ombre danzanti di Castle Comby sembrano uscire da una lanterna magica e portare scompiglio nella piccola e sorniona cittadina inglese, sino al tragico epilogo finale, con la scomparsa di due bambini. 2007, Torino. Mi scrive alcuni anni fa Lorenzo per raccontarmi la sua strana esperienza. Era in novembre 2007, se lo ricorda perfettamente perché quell'anno coincise da lì a poco con la morte del suo cane. Rientrando la sera dopo il lavoro, Lorenzo sta girando la chiave nella toppa della porta di casa, un appartamento al terzo piano di una via in zona crocetta. All'improvviso qualcosa lo spintona, si divincola, spinge alla porta e scappa dentro il suo appartamento. Chiude la porta le spalle con più mandate, posa la valigetta e guarda fuori dallo spioncino. Non vede nulla e non sente alcun rumore. A quel punto qualcosa lo spintona nuovamente facendogli picchiare la testa contro la porta a cui era appoggiato, proprio lì all'interno del suo appartamento dove credeva di essere solo. Si volta terrorizzato e vede chiaramente di fronte a sé la sagoma di un uomo, un'ombra che sembra appiattirsi contro il muro e svanire dietro un quadro appeso nel corridoio. 2013, Milano. Loredana e Marco hanno ospiti quella sera, una piccola cena in famiglia, ma si sono fatte le nove di sera e Loredana deve mettere a letto sua figlia di appena un anno. Il marito rimane in cucina con il fratello e la cognata, stanno bevendo un bicchiere di vino. All'improvviso Loredana si mette a strillare e torna correndo in cucina con la figlia in braccio. C'è qualcuno nella stanza della piccola. Marco e il fratello si precipitano a controllare ma non trovano nulla. Tutto tranquillo. Le chiedono cosa l'abbia terrorizzata. Lei afferma di essere giunta davanti alla porta della stanza e ancora prima di accendere la luce di aver visto la sagoma di un uomo alto con un cappello a tesa larga e un soprabito proprio davanti alla porta balcone. La storia sembra finire lì. Forse Loredana è solo stanca e gli occhi fanno brutti scherzi a volte. Poi però arriva la tarda notte. Gli ospiti se ne sono andati da un pezzo e Marco e Loredana sono a letto che dormono. Improvvisamente vengono svegliati dalle risa della bambina. I genitori si svegliano e senza pensare a quanto accaduto poche ore prima sorridono e si alzano per andare a controllare. Per una volta non li ha svegliati piangendo e urlando. Quando giungono sulla porta della stanza Loredana afferra con forza il braccio del marito terrorizzata. Entrambi possono vedere chiaramente l'ombra di un uomo con il cappello a tesa larga nel contro luce della porta finestra. È chinato sul letto recintato della bambina intento ad osservarla. Marco accende la luce e far fuglia qualcosa. Anche lui è terrorizzato ma si precipita comunque all'interno della stanza dove l'ombra è già scomparsa. 2014 Milano. Giulio ha 52 anni, ingegnere sposato con Fabiana da cui ha avuto due figli. Qualcuno la notte lo osserva dal fondo del letto. Lo vede quando apre gli occhi, improvvisamente, nel cuore della notte. Non appena allunga la mano per accendere la luce, quella figura spettrale scompare. Non si tratta di paralisi notturne poiché dice di potersi muovere perfettamente. C'è solo quell'ombra ai piedi del letto che lo osserva silenziosamente ed è sicuro, afferma, indossa un cappello borsalino. Quelle che avete appena ascoltato sono testimonianze trovate all'interno di libri e raccontatemi da alcuni testimoni nell'ultimo decennio. In tutti questi anni ho sempre pensato che molti casi fossero il risultato di allucinazioni, il palesarsi di angosce legate a presenze invisibili che l'umanità teme da sempre, come i fantasmi, gli spiriti, le anime erranti. Poi però vedo un ripetersi continuo di particolari come la presenza dell'Hatman, l'uomo con il cappello. Vedo che queste storie che mi sono state raccontate provengono da persone tutt'altro che prese dal mondo del mistero. Leggo di testimonianze su alcuni libri e trovo tracce di uomini ombra anche laddove non avrei mai creduto. Poi, quando ormai iniziavo a credere e a darmi una spiegazione che accontentasse la razionalità e quella giusta dose di possibilismo, mi imbatto nella prima pagina della Domenica del Corriere del 7 marzo 1954. Riporto la notizia, letto dalla Musifavolista. Fantasmi al confine. Una figura umana che qualche volta ha l'aspetto di un uomo tutto vestito in nero, con il cilindro in testa, e talora quella di una ballerina seminuda, passa fulminea, a quanto si dice, lungo la rete metallica anticontrabbando stesa al confine italo-svizzero fra Ponte Teresa e Porto Ceresio, Varese. L'avrebbero vista molte persone, fra cui alcune donne che sono svenute per la paura e anche le guardie confinarie. La gente ha subito parlato di fantasmi, ma qualcuno pretende invece trattarsi di un fenomeno collegato alla televisione. In modo più approfondito ne parla la Gazzetta gazzetta ticinese del 22 febbraio 1954. Gazzetta ticinese, 22 febbraio 1954. Strani fenomeni nella zona di confine italo-svizzera che dalla Val Ceresio giunge sino a Ponte Teresa. Lungo la rete metallica che segna il confine sbarrando la via ai contrabbandieri, dalle 21 in poi, ombre, figure, sagome strane, evanescenti, quasi vaporose, si inseguono alternandosi tra lo stupore e il timore degli abitanti della zona. Il fatto fu segnalato per la prima volta una decina di giorni fa. Una pattuglia di guardia di finanza stava perlustrando la linea di frontiera quando scorgeva una figura femminile, dai contorni trasparenti, attraversare la rete di confine come se in questa si fosse aperto un barco. I militari rendevano nota la cosa ai comandanti, che dapprima scettici dovevano poi convincersi dinanzi al ripetersi delle segnalazioni e al clamore suscitato tra il popolino di trovarsi di fronte a manifestazioni del tutto inconsuete ed inspiegabili. Chi ha visto il fenomeno l'ha descritto così. La prima volta era un uomo col cilindro, la seconda volta l'ombra aveva l'aspetto di una ballerina seminuda che danzava, la terza era data da una donna che stava tenendo una conferenza. Fra le tante ipotesi formulate sulla natura delle apparizioni suddette, ha trovato buona dose di credito quella attribuente il fenomeno alle trasmissioni televisive, spiegazione che però non ha alcuna base scientifica. Fenomeni di ombre provocate dalle trasmissioni televisive? E in che modo? Per quanto possa essere scettico, non riuscirei mai a coprirmi di ridicolo proponendo una teoria come quella di una rete metallica che sarebbe in grado di captare le onde radio televisive e di mandarle in proiezione direttamente sopra di essa. In che modo, appunto? Fortunatamente la solidità di tale affermazione viene fatta notare già nel 1954 nell'articolo dove viene scritto chiaramente che tale spiegazione non ha alcuna base scientifica. Se tale fenomeno fosse stato possibile, perché sia capitato solo con quella rete metallica, è ancora più misterioso che il fenomeno in sé. D'altra parte la scienza dice chiaramente che se un fenomeno è ripetibile, quindi è anche dimostrabile. Ma essendo capitato una volta soltanto, non si spiega perché la scienza dovrebbe accanirsi spiegando questo fenomeno semplicemente con qualcosa che è accaduto, forse, probabilmente, non si sa, una volta soltanto. Se volessimo trovare necessariamente una spiegazione razionale, trovo molto più credibile la videoproiezione da parte di uno sconosciuto che probabilmente si divertiva a terrorizzare la gente che passava di lì. Ma anche in questo caso, contro che cosa avrebbe lanciato questa videoproiezione? Contro una rete metallica? Quindi, se non fosse nemmeno questa la verità. La presenza dell'uomo con il cappello rimane una strana coincidenza, certo, ma non dovremmo lasciarci prendere subito da macabri entusiasmi. Ricordiamo che fu avvistato anche lo spettro di una ballerina e di una donna che pareva presenziare ad una conferenza. Un po' strano per dei fantasmi o uomini ombra. Possiamo dunque farci un'idea di quanto è successo a cavallo tra il febbraio e il marzo del 1954 sul confine italo-svizzero, possiamo credere si sia trattato di una rara concomitanza di fenomeni apparentemente inspiegabili, oppure etichettare il tutto come paranormale al nostro personale discernimento. Ma che cosa potremmo rispondere? Che cosa potremmo dire a quelle persone che ci hanno raccontato le loro testimonianze di tutte quelle strane apparizioni di uomini ombra che hanno invaso le loro vite? Possiamo spiegare tali manifestazioni solo come allucinazioni? Errate interpretazioni di segnali visivi? Forse esiste un mondo delle ombre accanto al nostro, che per qualche motivo ignoto, a volte, può camminare tra noi al di là del proprio, così come noi a volte è concesso a scrutare al di là del confine. Grazie a tutti!